. Kylie Jenner, come applicare il rossetto per avere labbra sconvolgenti Kylie Jenner considera le sue labbra come uno dei punti più delicati del suo corpo. . Ecco perché ogni volta che la vediamo scattarsi una foto, per quanto informale, non possiamo far a meno di notare che le sue labbra sono sempre più che perfette. Piene, ma soprattutto uniformi, dall'aspetto morbido e impeccabile. . Qual è il suo segreto? Possiamo sfruttarlo anche noi? La risposta è sì. . Il rossetto secondo Kylie Jenner. . Quando Kylie Jenner pensa ad un rossetto, naturalmente, non pensa a nient'altro che ai suoi favolosi, versatilissimi lip kit. . Con un po' di astrazione, però, possiamo ricapitolare tutti gli step della lip routine della nostra socialite preferita e trasformare le nostre labbra nella perfezione assoluta. . Qual è lo strumento più efficiente per mettere il rossetto? L'applicatore. . Il trucco per una buona applicazione è la bacchetta o il pennellino con cui questo viene distribuito. . Quando troviamo l'applicatore perfetto, non gettiamolo neanche se il prodotto finisce. . Cerchiamo di usarlo anche per tutti gli altri prodotti che possediamo dopo un lavaggio accurato. . Qualche tempo fa, Kylie Jenner ha approfittato del suo profilo Snapchat per condividere qualche consiglio di bellezza con le fan dei suoi prodotti e, naturalmente, della sua personalità scoppiettante. . Kylie, che di rossetti ne ha provati tanti, conosce bene la differenza tra un rossetto liquido che si porta con facilità e uno che non si applica bene. . . Se avete un rossetto matte, mi raccomando, utilizzatene sempre e solo uno strato. . Spalmatelo una volta sola e tenetelo molto sottile, racconta Kylie. . Il trucco per evitare la secchezza delle labbra provocata dai rossetti matte è servito, spesso, per creare una patina omogenea, tendiamo ad applicarne troppo. . Un buon rossetto matte è altamente pigmentato e non richiederà più di uno strato di stesura per essere davvero perfetto. . Come fare a capire se il nostro rossetto è abbastanza pigmentato? Idea pazza, proposta da una fan, proviamo ad usarlo come ombretto. . Se il risultato è buono, significa che abbiamo trovato il colore dei nostri sogni. . Un segreto da lip gloss. . Kylie Jenner ama le sue labbra glossy e carnose. . . Eppure, quando siamo noi ad applicare un gloss sulle nostre labbra, abbiamo sempre la sensazione che l'effetto prodotto non sia uguale. . Come se le nostre labbra fossero semplicemente sporche, e non precise e rifinite come quelle di Kylie. . . Il suo segreto? La socialite applica sempre un lip liner dello stesso colore prima di stendere un generoso strato di gloss. . . In questo modo le labbra avranno un aspetto più grafico e dettagliato, e sembreranno letteralmente esplodere di luce e bellezza. Kylie Jenner è una ferma sostenitrice che l'unica nuance perfetta per noi è unica anche nel suo genere. . . Ecco perché la piccola di casa Kardashian invita le ragazze a sperimentare sempre, mescolando tonalità diverse di rossetto per trovare quella che sia davvero giusta per il nostro incarnato. . . . .